Il Cerrano Family Festival è ormai giunto alla seconda edizione dopo la winter dove abbiamo rianimato il centro cittadino con degli stand gastronomici e delle dimostrazioni di cioccolato. Questa volta andiamo ad impegnarci nel campo sportivo vista la vocazione anche della città e che è quello poi che chiede la regione con questi open day. Portare avanti le varie tradizioni è quello che è lo spirito di una città. Quindi dal 27 fino al ponte del 2 giugno la città di Roseto sarà animata con eventi sportivi a partire dal pattinaggio il 26, 27 e 28 che aprirà, una gara nazionale, si svolgerà il palazzetto e dopodiché tutto si trasporterà al lungomare centrale. Quindi nel sabato sera ci saranno delle iniziative espositive da parte delle associazioni sportive, ci saranno degli stand della CIA, degli associati CIA che verranno ad esporre e a proporre i prodotti locali dopo quello che è successo anche nel mese di gennaio. Noi abbiamo pensato che fosse giusto dare una mano ai produttori locali della nostra terra per cercare di rilanciare anche la loro economia, quindi coniugare lo sport con la tutela e la valorizzazione del nostro territorio. Quindi all'interno di quella serata ci saranno veramente tante cose, cicloturistica, camminata nazionale, insomma cerchiamo di far conoscere attraverso lo sport tutto il nostro territorio. È importante far vedere che al di là dei colori politici, attorno a dei progetti importanti per i territori e per i nostri cittadini, quindi anche per la crescita economica dei nostri territori, ci si riesce ad unire per portare poi a conclusione un progetto che può dare veramente tanta rilevanza come lo sta facendo.